Questa sera Slow Food Neretum, che io rappresento, ha proposto una degustazione laboratorio sull'olio. Sull'olio perché? Perché noi come Slow Food sosteniamo la produzione di un olio buono, pulito e giusto e perché ovviamente la Puglia è la prima produttrice in Italia di olio, ha un 42% sul totale nazionale quindi è un dato che sicuramente ci fa immenso piacere. Sarà una degustazione, avremo due aziende, due aziende di due nostri soci storici il primo è l'azienda Scupola di Guagnano, il nostro socio è Mimino Donateo e la seconda azienda è l'azienda Frantoglio Giuranna di Nardò, quindi giochiamo in casa e il nostro socio Viaggino Giuranna. Faremo una degustazione dei loro oli nel Almodò di Maria Rosaria de Benedittis di Leonardo Marco che ci prepareranno dei prodotti, delle preparazioni a cui abbineremo gli oli in degustazione. Grazie. So you take off without wording, nothing to say I guess, as I sit here through the morning, me and the mess you left, so we wanna run away, and it's life as usual, with our pockets full of something that was beautiful. Mi hanno proposto di fare questa degustazione e io ho accettato subito anche perché in realtà con gli altri componenti del comitato avevamo già pensato di intraprendere un discorso sull'olio, un percorso di degustazione e di conoscenza del mondo dell'olio. E niente, quindi abbiamo detto proviamo, vediamo se poi va bene magari possiamo continuare questa conoscenza. Stasera lo facciamo, iniziamo ad avvicinarci al mondo dell'olio insieme a due aziende di nostri soci, i nostri soci anche attempati, uno è giovane quindi insomma non... uno un po' meno, uno un po' meno però insomma... ed è l'azienda scubola di Cosimo, di Bagnano, di Cosimo, di Mimino, Donateo e del frattore di Giuranna, di Biagino Giuranna, di Nardo. Io inizierei con una descrizione delle due aziende, giusto per farvi capire, insomma per inquadrare il concetto, è di Maior, chiamo Mimino, passo la parola a Mimino che ci descriverà un pochino l'azienda, le sue produzioni, le ultime, le livo presenti e farà un quadro sulla sua azienda. Buonasera a tutti, buonasera a tutti, io ho un'azienda piccola scubola, un'azienda che come tanto io ho le aria, si tratta a Bagnano, mentre i siti aziendali li abbiamo a... sono su tre diverse zone, e una qui a Nardo, in contatto a Snetta, abbiamo quasi 40 ettari, gli altri due siti si trovano a Bagnano, intorno al fruttorio, e un altro sito, una persona abitata sul Salentino, vicino alla pista. Siamo un'azienda che è produttrice, abbiamo un po' inizio da Bagnano, e un po' inizio da Bagnano, e un po' inizio da Bagnano. Significa che quando avviene questo cantamento, l'albero ci dice, io ho finito di fare il mio lavoro. Da quel momento, come tutti i frutti, bisogna ricordare che il rito è frutto, e naturalmente come tutti i frutti devono essere racconti esclusivamente da Bagnano, da quel momento nel processo di invagliatura, inizia il processo di maturazione, e un po' inizio da Bagnano, e un po' inizio da Bagnano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.